Che serata, che serata, che serata! Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, attivate la campagna, lasciate un mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo questo mercoledì di Serie A, turni fra settimanale e riguardo specialmente le due partite delle 20.45, quindi Sassuolo-Napoli e Genoa-Milan. Io, per motivi logistici, ho visto molto di più la seconda, quindi mi sono perso la rimonta del Sassuolo, anzi, il quasi ribaltone del Sassuolo, aveva segnato 3-2, 3-2, poi gol annullato per fallo che c'è, ma il Napoli che era avanti 2-0 in 8 minuti, in 8 minuti prima con Fabian Ruiz e poi con ancora Dries Mertens, sembrava essersi portato a casa il match, invece poi il gol di Scamacca, l'infortunio di Koulibaly fanno perdere delle certezze al Napoli che subisce il pareggio e poi stava per perdere in maniera clamorosa, sarebbe stata un'ammazzata gigantesca, così è una bella ammazzata in senso negativo per il Napoli, perché comunque ti potevi portare a casa 3 punti, potevi rimanere con 3 punti di vantaggio sul Milan e sappiamo che questo campionato è veramente equilibrato, almeno per quanto riguarda le parti alte della classifica, quindi magari alla fine del campionato questa rimonta potrà anche esserti fatale, cioè non si può sapere, questi due punti persi potranno anche esserti fatale a te, Napoli, mi sto riferendo al Napoli ovviamente, quindi si può considerare un passo falso per il Napoli, certamente, d'altro canto il Milan invece, ripeto, è il match che ho visto di più, quindi ho qualcosa in più da dire anche sui singoli giocatori, vabbè, partiamo da Ibrahimovic, il primo tempo di Ibrahimovic, cioè se qualcuno ha visto la partita, il primo tempo di Ibrahimovic, non lo so, veramente allora è come dice lui che giocare assieme a giocatori molto più giovani è come se questa cosa a sua volta lo facesse ritornare indietro nel tempo e lo caricasse veramente tanto, tra l'altro un attimo ragazzi che a basso qua c'è il club su Sky, stanno schiamazzando, hanno appena parlato di Messias e della storia di Messias, dei gol di testa, di Messias che prima di quello all'Atletico Madrid aveva sentito di testa, al Trapani, all'Arzachena, alla Bustese e alla Karatese, cioè rendiamoci conto insomma, quindi grandissimo Messias, ma per come, ma soprattutto per come, cioè, per come, come posso dire, sto cercando di trovare il termine adatto, per come ha impattato, ecco, con il Milan, per come ha impattato perché tu vieni dal crotone, sei comunque un ottimo giocatore ma, cioè, di colpo e in pochissimo tempo perché in poco tempo ti ritrovi proiettato con il Milan, proiettato nel Milan, segna l'Atletico Madrid, fai doppietta questa sera, tra l'altro due gol non bellissimi, anzi, il primo più bello del secondo, ma più che bello intelligente, cioè sono due gol veramente intelligenti, anche il secondo, lui capisce che ha poco spazio per piazzare il pallone, la piazza, l'angola benissimo, palo-goal, credo, comunque insomma, palla che che passa veramente vicino al palo e va dentro, quindi un giocatore forte in uno contro uno, veloce ma anche intelligente, quindi grande messias e veramente ce l'ho a cuore questo giocatore perché, cioè, poi si vede che è una persona umile, che ha giocato tanti anni nelle categorie inferiori, che si è fatto le ossa, quindi non molla nulla e quindi questi sono i giocatori che mi piacciono di più, questi sono i giocatori e le storie che mi piacciono di più. Poi stavo parlando di Ibrahimovic, cioè, che cosa gli vogliamo dire a Ibrahimovic? È un qualcosa di, boh, non lo so, il primo tempo soprattutto, ripeto, devastante, imperioso, ecco, forse il termine giusto è imperioso, veramente, solo applausi, cioè, non ho altro da dire, non ho altro da dire, poi, ma è comunque un Milan che gioca di squadra, nonostante le difficoltà, vedete, io avevo pronosticato comunque, nei miei pronostici, un golletto da parte del Genoa, avevo pronosticato, cioè, qualche difficoltà per il Milan e invece, no, aggrediscono subito il match, come ha detto Ibra poi nella post partita, il calcio è fatto di up and down, di alti e bassi, sono stati in down in queste due partite, soprattutto contro il Sassuolo, perché la sconfitta con la Fiorentina, ripeto, è un po' rogambolesca, un po' di blackout, quindi magari poteva essere un episodio a sé, poi arriva la sconfitta contro il Sassuolo e ti chiedi, cavolo, cioè, sta succedendo qualche cosa allora nel gruppo squadra si sta rovinando qualche meccanismo, si sta inceppando, invece si riparte subito, così 3-0 netto al Genoa e quindi il Milan che accorcia e torna a meno uno dal Napoli. Ma che cosa è successo lì davanti? È successo che in cinque punti adesso ci sono quattro squadre, si è compattata la classifica e nel prossimo turno di campionato ci sarà Napoli-Atalanta, poi vabbè Roma-Inter, come, mamma mia, già ho paura, già ho paura per questa partita, veramente, perché tra tutte le cose che ci sono successe e adesso ci arriviamo ovviamente al discorso Roma, quindi Roma-Inter, Napoli-Atalanta e probabilmente non ci sarà Coulibaly perché c'era, da come hanno detto in televisione, c'era molta preoccupazione per l'infortunio di Coulibaly e la partita c'è fra pochissimi giorni, quindi non so, sinceramente. Poi il cambio di insigne anche, credo, alla fine del primo tempo, quindi anche lì non so cosa sia successo, poi sembra un problemino anche per Fabio Arruis, insomma, sono usciti veramente il Napoli stasera dalle stelle alle stalle perché dal portarsi a casa altri tre punti comunque ottimi dopo la grande vittoria contro la Lazio alla quasi sconfitta, cioè al quasi ribaltone, all'infortunio di Coulibaly, Fabio Arruis, insigne, sinceramente non ci metto una mano sul fuoco perché non ho visto l'episodio, non ho visto, cioè non so il motivo per cui sia stato cambiato, quindi ci vado con le dovute pinze, ecco, però per tutto il resto, insomma, è una serata deludente per il Napoli, certamente. Quindi, veniamo un attimo al discorso Roma adesso e aggiungo qualche cosa su quello che, sul post partita che ho fatto in precedenza e, che dire, a Roma-Inter, cioè, non l'avevo detto nel post partita, poi me ne sono accorto dopo che anche Garsdorp, che era stato ammonito al novantesimo con un fallo stupido e era diffidato, era diffidato e adesso io vorrei sapere a destra chi giocherà contro l'Inter. Io non credo faccia giocare Reynolds, anche se è comunque un terzino di ruolo, io non credo lo faccia giocare, scommettete? Secondo me ci metterà i bagnez sulla destra, cioè, non lo so, si inventerà qualcosa a Murigno perché, boh, non lo so, Cristante, quantomeno è tornato, è stato riaggregato al gruppo in extremis, per il resto però, non lo so. Cioè, veramente, recuperiamo giocatori e ne perdiamo altri in momenti importantissimi della stagione. Poi, un'altra considerazione, abbiamo perso con il Venezia, abbiamo perso con il Bologna, poi con un'altra squadra che in questo momento mi sfugge. Cioè, non lo so, abbiamo vinto in maniera stiracchiata, ma comunque abbiamo vinto con Torino e Udinese, cioè, boh, è chiaro che tu, che tu arrivi al match con l'Inter, tu tifoso della Roma, arrivi al match con l'Inter, che sei abbastanza, non dico depresso, ma demoralizzato perché, cavolo, dici, oh, cioè l'Inter gioca a calcio, l'Inter è una delle quattro squadre che sono lì davanti, che giocano a calcio più di tutte le altre squadre, e non a caso si è creato un solco fra la quarta e la quinta, ossia fra l'Atalanta e la Roma, sei punti, cioè, a meno che non crolli una di queste squadre, cioè, la lotta Champions ovviamente è prestissimo per tirare conclusioni, però è un dato di fatto, quelle quattro giocano molto di più delle altre, e la classifica non mente, e quindi, boh, non lo so, cioè, come ci arriva la Roma, a Roma-Inter? Secondo me ci arriva abbastanza male, per vari motivi, però speriamo bene, speriamo bene, posso dire solo questo, il calcio è pieno di sorprese, lo sport in generale è pieno di sorprese, speriamo, non so, magari tramite soprattutto l'apporto del pubblico, tramite, cavolo, abbiamo Murigno in panchina, maledizione, abbiamo Murigno che è un motivatore nato, quindi spero veramente faccia qualcosa, innanzitutto tatticamente, per aggiustare la squadra in vista dell'Inter, ma soprattutto caratterialmente, quindi, da una parte sono fiducioso e arrivo un po' preoccupato, ma anzi, preoccupato, ma comunque carichissimo a Roma-Inter, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, questo video termina qui ragazzi, e buonanotte a tutti, ancora grande Milan questa sera, forza Roma e al prossimo video!